Questo video lo voglio rivolgere a tutti quelli che sono in corsa per aprire un'attività, a chi si è già messo in moto e sta tribolando per arrivare alla meta. Come le conosco bene quelle sensazioni. Quando stai lavorando per avviare un progetto, la pazienza diventa un elemento fondamentale. Soprattutto se sei alle prime armi, l'entusiasmo può giocarti qualche brutto scherzo e spingerti a fare tutto di fretta nella foga di aprire. E invece ci vuole pazienza. Pazienza nello studiare il mercato che più risponde alle tue esigenze. Pazienza nel trovare fornitori e partner giusti. Quanta pazienza ci vuole con certi franchisor. Pazienza per trovare la location giusta, che a volte sembra proprio non voler venire fuori. Aprire un'attività ha i suoi tempi, i suoi ritmi e non sono certo ritmi frenetici. A volte alcuni si arrendono ancora prima di intravedere la meta, mentre altri, e qui diventa pericoloso, fanno di tutto per bruciare le tappe e accettano qualunque compromesso pur di arrivare ad alzare la serranda. Ci sono degli step ben precisi da seguire, ma mai un copione scritto. C'è chi ha quel dannato colpo di fortuna che gli si allinea magicamente tutto senza doversi sbattere più di tanto, e chi invece deve tribolare più del dovuto per arrivare a un buon risultato. L'importante è non mollare e soprattutto non abbandonarsi alle prime difficoltà. La parola d'ordine per arrivare alla meta è costanza. Ogni volta che ci sono passato, tra i mille momenti di sconforto e di nervosismo che ti prendono, perché ti prendono, alla fine è andata sempre così. Se tieni duro, ad un certo punto ti guardi intorno e ti rendi conto che è tutto pronto. Ci sei, finalmente puoi aprire. Ogni apertura di successo ha una storia a sé caratterizzata da mille sfaccettature, ma sempre e comunque da tanta pazienza.